Siamo insieme a Salvatore, un altro residente di San Pietro a Patierno. Qual è il tuo problema? Il mio problema è che io ho quattro bambini in casa e continuo a pagare bollettini senza avere nessun risultato. Ho muffa dappertutto, bagni rotti, solo per entrare ho speso 20.000 euro per entrare al principio 10 anni fa, dei magistri si deve dare una svolta, qua stiamo continuando a pagare senza avere nessun risultato. Questi bambini hanno difficoltà respiratoria? Sì, tutti e quattro con l'asma per colpa della muffa. Quindi vuoi fare un appello al sindaco? Sì, signor sindaco, io vi ho portato anche le pizza a casa, sopra l'ufficio. Come ho aiutato voi a venirvi all'incontro? Voglio essere aiutato io, per me, per la mia famiglia e per i miei nipoti. Grazie mille.